La storia della torre di Babele è un monito per ogni generazione. Viene messa in evidenza quella ribellione umana che con un atto di orgoglio vuole sancire l'indipendenza da Dio, unico e vero legislatore. Parlare un linguaggio unico significa più esattamente sottostare tutti ad un unico potere centrale, avere un pensiero unico. Oggi è esattamente quello che sta avvenendo nella nostra società sempre più anticristiana. Persino le ovvietà vengono capovolte e il bene naturale come la vita è sotto attacco. Oggi richiamarsi ai valori biblici, ai valori cristiani diventa sempre più difficile, si rischia di essere persino scherniti ed emarginati. Come cristiani siamo dunque chiamati a restare fermi nella verità e nella luce delle scritture, poiché fuori di esse l'uomo resterà inesorabilmente nella notte dell'errore. Come cristiani siamo dunque chiamati a restare fermi nella notte dell'uomo resterà inesorabilmente nella notte dell'uomo resterà inesorabilmente nella notte dell'uomo resterà inesorabilmente nella notte. Come cristiani siamo dunque chiamati a restare fermi nella notte dell'uomo resterà inesorabilmente nella notte dell'uomo resterà inesorabilmente nella notte. Come cristiani siamo dunque chiamati a restare fermi nella notte dell'uomo resterà inesorabilmente nella notte dell'uomo resterà inesorabilmente nella notte.